il notiziario di franco fracassi in collaborazione con becciolini network www.becciolininetwork.com canale telegram becciolini network salve a tutti benvenuti alla quotidiana rassegna stampa realizzata da me insieme alla mia collega paola pentimella testa oggi è il 20 gennaio e parleremo di cioccolata di siria e di automobili elettriche notizia numero uno ogni tanto una buona notizia di riscatto l'africa sfida le multinazionali del cacao e avvisa basta sfruttamento o vi cacciamo l'europa è il più grande consumatore al mondo di cioccolato mentre l'africa occidentale è il principale coltivatore delle fave di cacao da cui si fa appunto la cioccolata che noi consumiamo ed è proprio sul cacao o meglio su sostenibilità e costi del cacao che da tempo i due continenti si scontrano finora a perderci sono stati coloro che il cacao lo producono come gana e costa d'avorio motivo per cui dopo aver boicottato a ottobre la partecipazione all'evento del world cocoa foundation di bruxelles entrambi i paesi hanno chiesto all'unione europea dimostrarsi concretamente intenzionata rispettare gli impegni presi pena il divieto di accedere alle piantagioni per fare previsioni sui raccolti e la sospensione dei programmi di sostenibilità scadenza 20 novembre scorso beh cos'è successo con quella data nel concreto mica tanto la ivory coast gana cocoa initiative un'organizzazione regionale nata nel 2018 con il fine di aumentare in modo sostenibile i guadagni percepiti dai coltivatori di cacao nei rispettivi paesi in un comunicato riferito è stato preso atto degli sforzi compiuti da alcune aziende e della loro disponibilità a trovare insieme soluzioni per una produzione sostenibile di cacao che ponga i produttori al centro di questa strategia per questo è stato istituito un gruppo di lavoro di esperti composto da rappresentanti dei paesi membri e dagli stakeholder del settore del cacao per studiare soluzioni per meglio risolvere alcuni problemi e garantire un meccanismo di prezzo sostenibile nel lungo termine l'auspicio è trovare un compromesso intelligente come lo ha definito Patrick Hachi il primo ministro a Evoriano il problema è che non sarà facile perché questo comporterebbe nei vari paesi africani la riduzione dell'impiego di forza lavoro minorile perché per lavorare, per estrarre il cacao vengono utilizzati tantissimi minori che in questo momento sono l'unica forza lavoro che tantissimi agricoltori possono permettersi di pagare è una diminuzione della pratica deforestazione che solo negli ultimi dieci anni ha distrutto in Africa 24.000 km2 di foresta e ovviamente questa diforestazione avviene perché i produttori di cacao per rientrare nei costi e per sopravvivere devono diforestare il più possibile se invece venisse pagata di più la materia prima come chiedono Gana e costa lavoro i agricoltori potrebbero permettersi di produrre cacao in condizioni migliori il problema è che le multinazionali non sono disposte a spendere di più ha dichiarato la tv Al Jazeera Kobenan Agiumani Quassi il ministro dell'agricoltura della Costa d'Avorio le aziende del cioccolato vogliono accumulare il massimo profitto ma quando danno la priorità a questo aspetto sono i poveri a soffrire devono capire che si tratta di sfruttamento che deve finire in Costa d'Avorio la produzione di cacao rappresenta il 14% del PIL coprendo il 45% della richiesta di fave di cacao nel mondo ma riceve solo il 4% circa del valore annuo stimato dall'industria del cioccolato di 100 miliardi di dollari ovvero il 96% di quanto si spende nel mondo del cacao 100 miliardi, quindi 96 miliardi, vanno altrove la maggior parte alle multinazionali secondo le stime del World Economic Forum milioni di agricoltori di cacao guadagnano una media di 78 centesimi di dollari al giorno e ovviamente un'esigenza comune li ha spinti a creare un cartello una sorta di OPEC del cacao basato sul principio che le aziende compratrici sono tenute a pagare una tassa di 400 euro in più per ogni tonnellata di cacao venduta per coprire i costi di produzione invece le multinazionali, facciamo qualche nome Ferrero, Lint, Nestle hanno provato a ridurre ulteriormente il prezzo della materia prima utilizzando altri escamotage da qui la minaccia dei due paesi notizia numero 2 allora la Siria è un paese ovviamente indipendente è un paese sovrano è un paese che ha una sua produzione di petrolio bene secondo il portavoce del ministero degli esseri cinese Wang Wenbin gli Stati Uniti dovrebbero spiegare al popolo siriano e alla comunità internazionale il furto di petrolio in sostanza gli Stati Uniti i democratici quelli sempre corretti quelli sempre dalla parte giusta stanno fregando il petrolio alla Siria fregando cioè non è che lo pagano di meno hanno fatto accordi vantaggiosi per loro no, no, lo rubano sempre secondo Wang Wenbin secondo i dati ufficiali del governo siriano oltre l'80% della produzione giornaliera di petrolio siriano è stato contrabbandato illegalmente dalle forze armate statunitensi nella prima metà del 2022 in sostanza gli Stati Uniti finanziano Al Qaeda bisogna ricordare questa cosa gli Stati Uniti stanno finanziando Al Qaeda e ISIS non ci dimentichiamo mai di questo in Siria Al Qaeda e ISIS sono finanziati dagli Stati Uniti per fare cosa? per fregare il petrolio alla Siria tra le tante cose e questo saccheggio sta portando a una catastrofe umanitaria in Siria perché quei soldi servono per finanziare il welfare siriano per aiutare i poveracci siriani visto che c'è la guerra e non è poco e la guerra è stata scatenata dagli Stati Uniti continua il portavoce cinese gli Stati Uniti sono molto avidi nel rubare risorse alla Siria ma sono molto generosi nel fornire aiuti militari a paesi stranieri spesso al costo di miliardi o addirittura decine di miliardi di dollari gli Stati Uniti cercano solo di preservare i propri interessi e la propria egemonia indipendentemente dal fatto che prendano o consegnino o che il risultato è lo stesso far precipitare altri paesi nel caos e nel disastro esortiamo gli Stati Uniti a rendere conto al popolo siriano e alla comunità internazionale del furto di petrolio e a smetterla di calpestare lo stato di diritto internazionale e di minare norme internazionali secondo un rapporto dell'agenzia statale siriana SANA si sostiene che le forze di occupazione statunitensi continuano a staccheggiare le risorse naturali e agricole del paese basti pensare che all'inizio di questo mese di gennaio un convoglio di 60 camion carichi di grano e petrolio ha lasciato il territorio siriano in direzione di una base USA nel nord di Iraq intanto in Siria sono 11 anni che c'è la guerra civile sempre a causa di Washington notizia numero 3 è una notizia diciamo bizzarra lo stato del Wyoming il Wyoming si trova bisogna capire il Wyoming è uno stato dominato alle montagne rocciose ricoperto da un'enorme quantità di parchi naturali il più importante di questi si chiama Yellowstone e ha una popolazione di mezzo milione di abitanti pari allo 0,17 della popolazione statunitense bene in Wyoming è stata introdotta una norma che propone la graduale riduzione della vendita di nuove automobili elettriche avete capito bene una vendita per ridurre le automobili elettriche fino a un completo divieto delle automobili elettriche entro il 2035 motivo danneggere la nostra industria petrolifera diciamo un'idea bizzarra però ha un minimo di fondamento non perché danneggere l'industria petrolifera perché le automobili elettriche sono inquinanti e anche tanto ma questa è un'altra storia allora il Wyoming si va in giro mica con le automobili quindi andiamo in giro noi servono pick up per guadare i fiumi grossi SUV eccetera eccetera e beh allora il questo provvedimento secondo il senato del Wyoming è stato una sorta di allarme lanciato nei confronti degli Stati Uniti e del resto del mondo nella direzione che si sta prendendo il bello che nel 2035 la California arriverà all'esatto opposto cioè al bando di tutte le armi scusate di tutte le auto che funzionano con a benzina o a diesel insomma comunque a idrocarburi nel resto del mondo che cosa succede? beh in Giappone il cui governo non solo non ha mai fissato una deadline per i motori a scoppio ma sta perfino valutando la possibilità di riformulare i vecchi equilibri delle tasse automobilistiche che possono arrivare fino a 760 euro con regime speciale fissato a un quarto quindi circa 200 euro per i vericoli a batteria o all'idrogeno quindi costano di meno da adesso in poi diciamo anche le auto elettriche incominceranno a pagare di più se avranno cilindrate più alte e poi Jeremy Hunt ministro di finanza del Regno Unito ha dichiarato che il governo introdurrà di nuovo tasse sulle auto elettriche a partire dal 2025 del resto Londra deve fare ecco i conti con un buco di 55 miliardi di sterline che si è aperto nelle loro finanze causa pandemia causa guerra in Ucraina anzi politiche di contrasto alla Russia e l'Italia beh anche il governo italiano ha fatto sapere che ci sta riflettendo che la deadline dell'Unione Europea fissata per il 2035 beh va rivista ciao a tutti